Apriamolo con la riete. In questa giornata un nodo rischia di venire al pettine nel vostro ambito affettivo e allora preparatevi ad affrontare un partner a dir poco alterato utilizzando tutte le vostre capacità diplomatiche. Toro, un vostro familiare o una cara amicizia vi darà un saggio consiglio per operare meglio nel vostro quotidiano. In ambito lavorativo vi dedicherete di più alle cose importanti e avrete anche modo di condividere dei bei momenti con chi vi circonda. Gemelli, dovrete cercare di migliorare il vostro impegno se vorrete ottenere il plauso di chi vi circonda nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore desidererete maggiore complicità dal vostro partner anche se le sue titubanze talvolta vi rendono scontenti. Cancro, le cose si evolveranno al meglio e vi sentirete carichi di energia e di ottimismo. Sul lavoro vi guarderete bene dal confidare i vostri propositi. In ambito affettivo sarete protagonisti di una serata bollente. Leone, questa vostra giornata risulta essere un po' pesante e ricca di impegni. Comunque non avrete difficoltà a trovare punti in comune con gli altri. Vergine, in questa giornata saprete dare il meglio di voi stessi. Dovrete essere riflessivi e pronti ad ogni evenienza. Per quanto riguarda la vostra vita con il partner ricorrerete a un espediente per metterlo alla prova. Bilancia, avrete voglia di rinnovare la vostra agendina e in questa fase farete pulizia delle amicizie. In ambito lavorativo ritroverete il gusto per quello che fate grazie a un vostro atteggiamento positivo. Scorpione, gli astri oggi vi consigliano di non farvi vincere dalla fretta e di essere posati nelle vostre scelte. Sul lavoro soprattutto evitate di rimuginare e siate positivi nei confronti degli altri. Ne trarrete un vantaggio immediato. Sagittario, in questi giorni dovreste essere più incisivi e determinati per meglio sopperire alle difficoltà del vostro quotidiano. Sul lavoro però riuscirete ad essere molto efficienti. Capricorno, oggi dovrete evitare di fare troppo i misteriosi se volete essere compresi nella vostra vera essenza. In ambito lavorativo dovrete agire con logica e meticolosità. Per quanto riguarda la vita di coppia invece il partner vi coprirà d'affetto. Acquario, nel corso di questa giornata tenderete ad avere una vena un po' nostalgica. Non date spazio ai pensieri negativi. In ambito lavorativo avrete un confronto circa il vostro stipendio. Pesci, in questa giornata gli astri vi suggeriscono di scegliere accuratamente il modo di esporre le vostre esigenze, soprattutto sul lavoro. Così avanzerete più agevolmente nel vostro percorso. Anche il vostro partner sarà un valido alleato per le scelte che farete.